Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano ci occupiamo del commercio nella città di Sulmona perché in atto la rivoluzione del commercio del capologo Peligno dopo il mercato di piazza Garibaldi ora si metterà a mano anche alle fiere. Ci dice tutto nel servizio Andrea D'Aurelio. Al via rivoluzione del commercio nella città di Sulmona comincia la terza fase della modifica del regolamento per il commercio su spazi e repubbliche per mettere mano a fiere e mercati che si svolgono nel corso dell'anno nel centro storico cittadino. La seconda fase, quella riguardante la riqualificazione del mercato di piazza Garibaldi, si chiuderà definitivamente lunedì prossimo con il via libera del Consiglio Comunale. L'ostacolo più duro può dirsi superato dal momento che il progetto di ristrutturazione dello storico mercato, condiviso con ambulanti e associazioni di categoria, ha ottenuto l'ok della giunta e della quinta commissione. E' stato ridotto il numero dei posteggi per valorizzare gli esercenti che animano la piazza. Tempi duri per gli spuntisti, dal momento che due anni avanti saranno un centinaio e gli ambulanti nel mercato. Nella planimetria della piazza sono stati individuati nuovi corridoi per i disabili, per abbattere tutte le barriere architettoniche. Il provvedimento al vaglio della stessa civica segna quasi un risultato storico, ma per mettere in mano il regolamento del commercio su spazi e repubbliche c'è ancora un breve tratto di strada da fare. L'idea è cominciato con l'approvazione della direttiva Bolkestein. La seconda fase riguarda il mercato secolare di piazza Garibaldi. Il terzo step mira a disciplinare lo svolgimento di fiere, mostre e mercati sul centro storico. Si comincerà a lavorare già da lunedì prima della seduta consigliare. Ora puntiamo a mettere in mano la qualità, la quantità, il numero delle fiere, spiega l'assessore comunale con delega al commercio Cristia La Civita, ricordando che al termine della terza fase saranno completate tutte le procedure riguardanti il comparto del commercio. E adesso la cronaca. Ieri l'arresto di uno dei presunti responsabili del furto di 18 computer commesso la notte tra il 20 e il 21 marzo scorsi. La scorsa notte il liceo scientifico Galilei di Lanciano è stato nuovamente saccheggiato e gli oltre mille studenti non hanno potuto fare oggi lezione. Il nuovo blitz si è concluso con il furto di più di 30 computer e tablet e il danneggiamento di decine di porte dei laboratori degli uffici amministrativi e della dirigenza. I ladri hanno preso i 12 computer rimasti nell'aula informatica, poi un'altra ventina di computer e tablet che erano in uffici, laboratori e all'interno di un armadio blindato. Rubata anche la cassaforte che conteneva un fondo cassa di un paio di centinaia di euro. Ingenti i danni quantificati attorno ai 50 mila euro anche su questo furto indaga la polizia. Il giovane arrestato ieri era stato identificato sulla base di un'impronta lasciata sul posto. Si cercano i complici. E adesso la cronaca ci porta a Sulmona perché si registra l'ennesimo furto di rame al cimitero e il secondo caso in un mese. Ce ne parola nel servizio Andrea D'Aurelio. 18 decendenti di rame sono stati rubati questa notte al cimitero di Sulmona per un valore complessivo di circa 2000 euro. A fare la vara scoperta è stato il custode che stamane come di consueto andaro ad aprire il luogo santo. Nel mirino dei malviventi finisce ancora una volta lo spazio riservato alla confraternita di Santa Maria di Loreto. I circa 100 metri di rame asportati hanno riacceso l'allarme per i furti al cimitero se si considera che quello di questa notte è il secondo episodio che si registra nel giro di un mese. Comincia ora la conta dei danni. Ad occuparsi del caso è la polizia municipale giunta stamane sul posto per i rilievi di rito. Se i furti al Campo Santo rimbalzano sempre più agli onori della cronaca prima o poi bisognerebbe mettere mano all'operazione sicurezza che prevede l'installazione di nuove telecamere all'interno del cimitero. Un obiettivo dell'amministrazione comunale che sta lavorando sul caso ma come al solito bisogna sempre fare i conti con le risorse a disposizione. Adesso ci occupiamo della vertenza delle cooperative del Comune di Sulmona. Si è arrivati a due settimane di occupazione di Palazzo San Francesco. I sindacati nel frattempo spingono per un tavolo regionale. Sentiamo tutto. Due settimane di occupazione fra termos di caffè e sacchiappelo, incontri con rappresentanti istituzionali, strette di mano con i cittadini solidali, assemblee e riunioni. L'attenzione sui lavoratori delle cooperative resta alta. A battere un colpo sono i sindacati che chiedono l'immediata convocazione di un tavolo regionale proposto nei giorni scorsi dal consigliere regionale PD Pierpaolo Pietrucci. Antonio Pasqualone, Francesco Marelli della CGL, Nicola Ceri della UIL in una lettera sperita all'assessore regionale delle aree interne Andrea Gerosolimo e al vicepresidente della regione Giovanni Lolli ribadiscono alla ferma e decisa volontà di trovare, tramite un incontro urgente e con lo spirito collaborativo, un'immediata soluzione alla drammatica vertenza di lavoro che si sta vivendo in questo territorio che già da anni vive purtroppo di crisi occupazionali non paragonabili ad altri territori della regione Abruzzo. I sindacati puntano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla garanzia della continuità dei servizi pubblici. Ieri intanto ha preso posizione sull'argomento il consigliere regionale di sinistra italiana Leandro Bracco, decine di persone che rischiano di rimanere senza lavoro e altrettante famiglie che si ritrovano a convivere con l'incubo della disoccupazione, lavoratori che da giorni occupano in comune servizi ridotti all'osso, con conseguenti disagi per gli utenti finali che altro non sono che cittadini. Quello che sta accadendo a Sulmona è paradossale. Per il rispetto dei lavoratori e al fine di tutelare il decoro di un'intera città la situazione va risolta quanto prima, ha dichiarato l'esponente di sinistra italiana. I lavoratori si preparano intanto alla quindicesima notte di occupazione in attesa di risposte. Vincislao Ruccolo è stato rieletto per acclamazione presidente della Fiesa Confesorcenti regionale d'Abruzzo nel corso dell'assemblea elettiva che si è svolta nella giornata di ieri a Sulmona. Ruccolo ha già ricoperto questa carica per quattro anni, inoltre membro della giunta della Fiesa nazionale e vicepresidente di Asso Panificatori. Per acclamazione soproposta dallo stesso Ruccolo è stato eletto per la carica di direttore regionale Angelo Pellegrino, già coordinatore negli anni passati della stessa associazione. La Fiesa d'Abruzzo opera in rappresentanza delle imprese, dei settori della panificazione, pizzeria, pasticceria, ortofrutta, macellerie, salumifici, pescheria, enoteche e comunque di tutto il settore alimentare. L'obiettivo dell'associazione è quello di essere al fianco degli imprenditori per la riqualificazione aziendale e il miglioramento produttivo nell'ottica dello sviluppo del mercato per i prodotti tipici e tradizionali. Ma l'aspetto più importante di tutta la strategia della Fiesa abruzzese è la lotta all'abusivismo e alla contraffazione che oggi incide notevolmente nell'economia delle micro, piccole e medie imprese del comparto alimentare. Il nostro obiettivo è quello di sostenere tutti i progetti che abbiano strategie ed obiettivi concreti di riferimento, ha detto Vincislao Ruccolo nel suo intervento. Il mangiare sano, la lotta alle malattie cardiovascolari e all'obesità hanno bisogno della condivisione delle imprese collaborando sia con il Ministero della Salute sia con l'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. Adesso parliamo di coesione territoriale, quei cento giorni che sono diventati un anno. Solo ora gli amministratori del centro Abruzzo mantengono fede agli impegni presi nella scorsa campagna elettorale. Sentiamo meglio nel servizio di Andrea Laurelli. Si torna a parlare di coesione territoriale esattamente un anno dopo. Era il 23 maggio del 2016, nel cuore della campagna elettorale per elezioni del mese successivo, quando 20 candidati sindaco del centro Abruzzo, oggi amministratori di maggioranza e minoranza delle singole municipalità, hanno sottoscritto un documento impegnandosi a rivedersi cento giorni dopo alle elezioni per affrontare il caldo tema della coesione. Di giorni ne sono passati 365 e solo ora qualcosa comincia a muoversi. Di stimoli da parte dell'Associazione Rivenziamo il territorio che da anni lavora sull'argomento sono arrivati e alla fine l'interesse si è riacceso. Entro la seconda metà di giugno, non escluso che si arrivi a un altro risultato storico, afferma Odaligi il vicepresidente dell'Associazione Gianni Natale. Certo, a giudicare dalle vicende che si sono susseguite nel centro Abruzzo dopo le elezioni comunali del 2016, gli impedimenti non sono mancati, ma ora è giunto il momento di aggiornare l'agenda politica. Sono stati vicissitudini drammatiche che hanno prodotto un incomprensibile rallentamento, ma proprio in questi giorni si sta attivando da diverse parti un movimento di incontri coinvolgenti sia i sindaci che l'assessore alle aree interne di Rosolino per concentrare un incontro che abbia una valenza di rilancio delle tematiche che ci si era prefissato un anno fa. E quanto rimarca Natale, è fiducioso che d'ora in avanti il cammino riprenda con più velocità, ai posteri l'ardua sentenza. Intanto sul teatro, il cinema e l'agenzia di promozione culturale, il movimento sulmonese di Sbic chiede risposte al sindaco Anna Maria Casini. A dubbi, perplessità e tante domande da porre al sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, gruppo consigliare di Sbic riguardo il tema della cultura, dalla gestione del teatro comunale al futuro del cinema pacifico, passando per la vicenda dell'agenzia di promozione culturale di Piazza Venezuela, Sbic chiede al primo cittadino delle risposte. Troppo spesso il sindaco della nostra città fa spallucce sui problemi, noi ora vogliamo delle risposte e pretendiamo un approccio operativo pragmatico ai problemi per una loro soluzione. Prendiamo per esempio il tema della cultura, intervengono da Sbic, non possiamo continuare a spendere dei soldi per attività che si spengono non appena accese, non vogliamo occuparci della qualità delle occasioni culturali, vogliamo porre l'accento sul fatto che non c'è nessuna visione generale sul tema più importante, i luoghi della produzione culturale. Secondo il gruppo di minoranza non si possono presentare libri e non avere una biblioteca, non si può fare una piccola mostra d'arte e non sapere cosa fare della pinacoteca comunale, non si può avere un festival internazionale di cortometraggi e tenere chiuso il cinema, non si può avere un concorso lirico e usare lo spazio teatrale solo per il consumo e non per la produzione di teatro. E poi si chiedono da Sbic quali azioni sono state poste in essere nei confronti della regione per la riapertura dello spazio di studio e lettura alla PC, si può ipotizzare e dare la possibilità ai ragazzi di usare provvisoriamente uno spazio culturale, favorendo così la lettura e lo studio per i prossimi esami. Sindaco non faccia finta di non aver letto, conclude la nota di Sbic. Il primo cittadino ha già risposta a un datigia alla domanda sull'agenzia di promozione culturale. Nel fine settimana arriverà il risponso dello studio sulla perizia per individuare quali parti delle immobili riaprire immediatamente. Il resto sarà trasferito in via Sardine, la sede IMS o in via Pola. Anche in questo caso la risposta dovrebbe arrivare fra qualche giorno. Adesso cambiamo decisamente argomento. L'Istituto Morandi fa il pieno nelle Olimpiadi di topografia. Quattro sono i premi portati a casa, ci dice tutto nel servizio Andrea D'Aurelio. L'Istituto Tecnico per Geometri si impone alla seconda edizione delle Olimpiadi di topografia che si sono svolte nei giorni scorsi a Ravezzano con tutti gli istituti per geometri della provincia dell'Aquila. Una serie di successi, quelli confezionati dagli alunni sulmonesi che mantengono alto il nome dell'Istituto Morandi. Primo premio per la prova individuale delle classi terze è andata Rodovica Curci della terza B. Trionfa anche Benedetta Bonadia della classe quarta A nella prova individuale delle classi quarte. Ex equo nella prova squadra per la terna Bonadia a capo di casa Iaione che si è piazzata prima assieme all'Istituto Alberti di Avezzano. L'altra terna Curci di Giovanni Pantaleone della terza B si è classificata seconda. La manifestazione spiega il docente Pietro Tirabassi Pascucci ha avuto lo scopo di pubblicizzare l'indirizzo di studio tecnico nel settore civile ma soprattutto evidenziare l'importanza di questa disciplina, abbassare essenzialmente sulla matematica e sulla fisica nella formazione tecnica del futuro geometra che lo caratterizza particolarmente. Ma non finisce qui. Tirabassi Pascucci fa notare che con le Olimpiadi di topografia si è voluto suscitare negli alunni quel senso di sana competitività tra coetanei anche di diverse realtà scolastiche e territoriali che li aiuta a crescere nella consapevolezza che la scuola è e deve essere per loro una fonda importante nella formazione dell'onesto cittadino e del bravo lavoratore professionista con le responsabilità ma anche con le grandi soddisfazioni connesse all'attività futura fin da ora assaporate. Sul muro sarà la sede delle Olimpiadi del 2018 e già cominciano i primi interrogativi. La competizione si svolgerà nell'Idi di Prato, l'avviso di trasferimento dell'Ederino Morandi o nella Lamagna delle Ceofermi. C'è chi vorrebbe una terza opzione, l'edificio storico di Via D'Andrea che è versa nel pieno abbandono da ormai tre anni. Con Calciopoli si è fatta della pulizia ma non basta, il sistema lo fanno quelli che stanno dentro e sarebbe importante per questo cambiare chi rovina il sistema. Diversi anni fa feci delle denunce e non mi fu vicino nessuno. Così Zdenek Zeman al seminario I giovani per la legalità nello sport organizzato all'Università d'Annunzio di Chieti. Il tecnico del Pescara ha spiegato agli studenti il motivo per cui decise di denunciare le cose che secondo lui nel mondo del calcio non andavano. Mi fu chiesto in una conferenza stampa cosa non andasse. Dissi che se comandavano le farmacie non andava bene. Dissi e ripeto oggi che bisogna difendere i valori sani del calcio. Siamo noi però che dobbiamo dare l'esempio per primi in campo. Ci sono altre dichiarazioni. Non è mancato qualche momento di tensione questa mattina a Chieti dove il tecnico del Pescara Zeman ed altri relatori tra cui il sottosegretario di Stato alla giustizia Federica Chiavaroli hanno partecipato come dicevamo al seminario I giovani per la legalità nello sport. All'esterno della facoltà di scienze delle attività motorie sportive dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti alcuni ultra del Chieti avevano attaccato ad una recinzione uno striscione contro l'iniziativa Chieti e la città nostra. Le lezioni fatele a casa vostra rispetto per teate. Lo striscione scritto in nero verde i colori del Chieti Calcio è stato poi dimosso dagli agenti della Digos della questura di Chieti. Non ci sono stati però problemi all'esterno della sede della facoltà. Rimaniamo ancora a questo appuntamento che si è svolto questa mattina a Chieti con l'allenatore del Pescara. Chiusa questa parentesi con lo striscione e gli ultra del Chieti che hanno contestato l'iniziativa. Come dicevamo ci sono altre dichiarazioni. Di Francesco scelta giusta per la Roma? Se dovesse andare si vedrà dopo. Di Francesco ha fatto molto bene a Sassuolo e andando a Roma sicuramente in una piazza diversa che però conosce bene per esserci stato sia da giocatore che da dirigente. Mi auguro che se dovesse andare sulla panchina giallorossa possa far bene e aiutare la Roma a migliorarsi ancora. L'ho detto appunto il tecnico del Pescara Zeman tra altro ex allenatore della Roma a margine dell'incontro che si è svolto questa mattina con gli studenti della facoltà di scienze delle attività motorie sportive dell'Università d'Annunzio. Il trainer adriatico non si è invece sbilanciato sulla finale della Champions League tra Juventus e Real Madrid. Sono 90 minuti ha detto Zeman tutti da giocare fra due ottime squadre. Credo che non ci sia una favorita per la vittoria. Torna in Valle Peligna l'Arsenal Day. Dopo il successo della scorsa edizione anche quest'anno una cinquantina di bambini e bambine avranno la possibilità di stare a contatto con i tecnici londinesi. Appuntamento nel pomeriggio di domenica 4 giugno allo stadio Pallozzi di Sulmona. L'iniziativa nasce dai contatti intrapresi da Delmo Ramunno, attuale responsabile della scuola calcio dell'Olimpia Cedas con i vertici dell'Arsenal Soccer School che dopo la prima esperienza vissuta nel 2016 sul campo di Pettorano sul Gizio è riuscito ad organizzare la seconda edizione nella città di Sulmona. L'obiettivo è quello di far apprendere ai ragazzi il modello Arsenal sulla base dei risultati che sta ottenendo il club inglese con i giovani. C'è anche una finalità promozionale del territorio legata alla figura di Ovidio che si sviluppa con il motto il calcio e poesia che mira a far conoscere il sommo poeta attraverso lo sport con realtà internazionali come l'Arsenal Soccer School. La manifestazione intende rendere omaggio proprio ad Ovidio in quanto si aprirà con il raduno davanti la statua del sommo poeta in piazza 20 settembre dove alle 15 partirà il corteo dei ragazzi partecipanti che accompagnati dai bambini del borgo San Panfilo sfileranno fino allo stadio Pallozzi per dare inizio alle attività rivolte ai nati nel 2006, 2007, 2008 e 2009. Appuntamento dunque con la seconda edizione dell'Arsenal Day domenica 4 giugno allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona. Dopo questa notizia non ci sono altri aggiornamenti possiamo così quasi concludere questa edizione del giorno del nostro telegiornale ma come al solito prima ci sono i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar con proiezioni alle 18 e 20 e alle 21 e 10. Scappa Get Out alle 18 e 10 e alle 21 e 10. Il Segreto con proiezioni alle 18 e alle 21. Bene è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie dalla cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni di cielo molto nuvoloso coperto con rovesci diffusi anche a carattere temporalesco sul settore orientale e costiero con fenomeni localmente di forte intensità accompagnati da raffiche di vento. I fenomeni poi tenderanno ad estendersi anche sul settore occidentale mentre schiarite avanzeranno lungo la fascia costiera ad iniziare dal teramano in estensione verso le restanti zone ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche in nottata e nella giornata di domani temperature in diminuzione specie sul settore orientale e costiero venti deboli dei quadranti nord orientali ma con forti raffiche sul settore orientale e sull'Adriatico centrale specie durante i temporali mare generalmente molto mosso specie durante i temporali